ciao da Lucy e benvenuti su Dani marchizziamoci non fate caso alla location poiché questo è l'unico angolo della mia casa in cui non ci siano dei cartoni perché come già sapete almeno alcuni di voi sapranno sto traslocando vi farò vedere la città di copenhagen è stato girato durante il periodo di capodanno eravamo io ed una mia amica che è venuta dall'italia a trovarmi e quindi mi sono prodigata finché lei conoscesse la città più possibile quindi cosa ho fatto ho prenotato un giro turistico con il pullman e un altro giro turistico con il battello quindi vedrete alcuni scorci della città alcuni monumenti importanti anche se diciamo in modo veloce alcuni posti non siamo riusciti a venerli perché il tempo era poco e comunque molti posti erano anche chiusi alcune chiese per esempio in questo video vi farò vedere anche i locali che abbiamo visitato nel senso i locali intesi come ristoranti scriverò sotto anche alcuni prezzi sia dell'hotel in cui abbiamo pernottato i ristoranti in cui abbiamo mangiato mi dispiace se il video non è completo di tutto quello che in realtà ci sia a copenaghen insomma che si possa vedere vi suggerisco inoltre di andare a visitare il blog di silvia e vi lascio sotto il link del suo canale su instagram in quanto lei conosce molto bene copenaghen ma non solo anche la danimarca e la scandinavia poi ci sono molte cose interessanti sui suoi viaggi vi lascio alla visione del video a dopo ciao 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 e non c'erano l'oxidante. Ci sono molti tipi all'interno del centro del nord del nord del nord. Ci sono anche qui. Ci sono i materiali di protezione e ci sono i risultati e ci sono i risultati. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.